Saem Italy è la società del gruppo Meridiana, è partecipata al 100% da Meridiana e Eurofly che sono i due vettori di riferimento del gruppo Meridiana. La società nasce nel 2007 e nasce soprattutto per favorire l'entrata sul mercato di tutta l'attività di linea di Eurofly. Siamo partiti in maniera molto efficace nel 2008 dove abbiamo incominciato a parlare su tutto il territorio italiano di quelle che erano le novità legate a Eurofly e alla sinergia che le due compagnie insieme erano in grado di offrire al mercato italiano. È stato un successo notevole perché siamo riusciti a fare in modo che la produzione di Eurofly fosse effettivamente molto più elevata rispetto agli anni precedenti grazie all'azione commerciale che siamo stati in grado di portare sul mercato. Allora, innanzitutto direi che siamo un GSA un po' differente rispetto agli altri, ovvero ci riteniamo un GSA proattivo e non reattivo. Quindi quello che abbiamo cercato di portare all'attenzione dei nostri fornitori è che il valore aggiunto che siamo in grado di dare è quello di riuscire a valutare le richieste del mercato e quindi insieme al mercato cercare di fare delle proposte ai fornitori per rispondere a queste esigenze. Proprio in questi termini, lavorando col mercato e cercando di comprendere esattamente quale poteva essere un valore aggiunto che Semitali poteva dare al mercato delle agenzie di viaggio, ci siamo resi conto che la complementarità dei servizi poteva essere assolutamente importante. Quindi da qui la richiesta, per esempio, di allacciare sempre più spesso ai servizi di trasporto aereo anche i servizi alberghieri, piuttosto che ai servizi di autonoleggi. Da qui la nostra collaborazione che nasce nel 2009 con Una Hotels, che è una delle più importanti catene alberghiere italiane, e Car for Leisure, che è un broker di autonoleggio che è da quest'anno sul mercato italiano e si rivolge solo ed esclusivamente al mercato delle agenzie di viaggio. Altro elemento distintivo di Semitali è sicuramente la modalità nella quale operiamo direttamente sul mercato italiano. Noi abbiamo voluto dare del valore aggiunto ai nostri fornitori e quindi abbiamo sicuramente fatto degli investimenti. I primi tra tutti in tecnologia, noi ci siamo dotati di un sistema di CRM in grado di tenere sotto controllo tutta l'attività di vendite che viene fatta e tutta l'attività di marketing che viene fatta da noi nei confronti del mercato. Da questo punto di vista diciamo che siamo riusciti a fare delle grandi, grandi novità perché abbiamo investito tantissimo in comunicazione, stiamo facendo delle analisi sul mercato per cercare di segmentare in maniera corretta il mercato e questo ci serve per andare a comprendere esattamente la composizione del mercato, chi sono le agenzie di viaggio e quali sono le loro necessità al fine di poter rendere questo servizio ai nostri fornitori dicendo questo prodotto, questo servizio ha senso promuoverlo solo ed esclusivamente su questa parte del mercato perché riteniamo dalle nostre analisi essere in grado di fornire i maggiori risultati. Quindi questo è sicuramente uno dei servizi che i nostri fornitori stanno apprezzando maggiormente. La piattaforma tecnologica di Semi Italy è un altro dei fiori all'occhiello della società. Noi abbiamo voluto investire molto sulla tecnologia per permettere a tutti i nostri fornitori di avere un unico mezzo attraverso il quale comunicare con le agenzie di viaggio. Quindi ogni fornitore ha la possibilità nelle varie partizioni del sito di poter inserire la propria piattaforma tecnologica per permettere agli agenti di viaggio di effettuare le prenotazioni. Un altro dei vantaggi che permette la nostra piattaforma tecnologica è quella di favorire la formazione degli agenti di viaggio. Infatti attraverso il nostro sito permettiamo ai fornitori di tenere quelli che noi consideriamo e chiamiamo i webinar che sono non altro che dei seminari online sul web che permettono quindi di parlare del loro prodotto, dei servizi e di fare formazione diretta agli agenti di viaggio. Per essere sempre aggiornati su quelle che sono le novità di Semi Italy io vi consiglio di iscrivervi alla nostra newsletter Al Volo. È una newsletter che è stata lanciata due mesi fa sul mercato e già in questi due mesi conta quasi 6.000 iscritti tra agenti di viaggio e naturalmente anche fornitori interessati a tutte le attività che stiamo svolgendo sul mercato.